Si parla di sprechi, in particolare di quelli alimentari, nel convegno di Campobasso organizzato dalla Feder Consumatori del Molise e da quella della Liguria, con la collaborazione attiva della Confederazione Italiana Agricoltori e della CGL. Ne parliamo con Michele Schierino, presidente di Feder Consumatori Molise. Lo spreco alimentare è molto diffuso, è molto diffuso tra i cittadini perché una buona parte, circa il 30% dei prodotti che acquistano, va buttato. Allora noi diciamo attenzione alle massai, quando vanno a fare la spesa, di comprare il necessario. Attenzione quando si porta a casa, si mette in frigo, se c'è rimanenza in frigo, portarla avanti per fare in modo di non buttarlo. Ma attenzione pure che molti di questi prodotti, come pane, verdura, frutta, possono essere riciclati all'interno, si possono fare tante altre cose ed evitare di buttarlo. Le conclusioni dell'importante iniziativa sono state affidate al presidente nazionale di Feder Consumatori, Rosario Trefiletti. La sicurezza alimentare è una cosa per noi fondamentale, è il rispetto della persona, è il fatto di poter desinare con prodotti che non siano prodotti che fanno male. E quindi per l'integrità della persona queste iniziative sono fondamentali, oltre naturalmente gli interventi e le iniziative delle forze dell'ordine, come i NAS e via dicendo. Quindi questa è una questione importante, assai rilevante. Però io dico di più che anche sulla questione degli sprechi alimentari bisogna che ci si metta in campo per quanto riguarda quello che definisco non solo un problema etico, quello di avere sprechi alimentari per miliardi di euro e dall'altra parte gente in povertà che non riesce a sbarcare il lunario quotidiano. Ecco perché anche su questa tematica bisogna fare grandi sforzi per razionalizzare di più la produzione e la trasformazione. E poi per poter intervenire nell'intermediazione. Si pensi a quanti prodotti vanno a scadenza mentre gente muore di fame. E terza cosa è informare anche le famiglie, perché anche lì c'è molto spreco.